Ciao cari amici, quelli di voi che seguono la situazione in Ucraina sicuramente conoscono diversi analisti, conoscono diversi esperti che si esprimono spesso su quello che sta accadendo in Ucraina a livello geopolitico tra la Russia e Stati Uniti, tra Stati Uniti e Unione Europea, tra blocco occidentale e blocco BRICS, tra la Cina e altri grandi giocatori della scacchiera geopolitica. Una di queste voci sicuramente spesso definito ambiguo, spesso le sue opinioni sono stati definiti scandalose e l'ex colonnello degli Stati Uniti d'America, dell'esercito degli Stati Uniti d'America, Douglas MacGregor. Douglas MacGregor, io vi invito chi di voi non lo conosce, vi invito di seguirlo, lui ha un canale su Telegram, non so se gestisce lui o qualcuno per lui, comunque c'è un canale che si chiama Douglas MacGregor, vi invito ad iscrivervi, è molto interessante perché è una persona che ha accesso a delle informazioni che arrivano dal Pentagono, è una persona in contatto sicuramente con gli analisti dei servizi statunitensi, uno che ha fatto tutta la vita all'interno dell'esercito statunitense, conosce molto sulle operazioni che Stati Uniti d'America hanno svolto nel Medio Oriente, in Afghanistan, ha dei dati molto interessanti che spesso condivide, dati verificabili e fa le analisi che in grande linea sono molto interessanti, io non dico che assolutamente che lui è una fonte della verità assoluta, come non lo dirò mai di nessuno, perché secondo me non esiste la verità univoca, esistono solo le pluralità delle opinioni, ognuno esprime la propria opinione in base alla propria esperienza, in base a quello che è la propria vita, a quello che conosce e sicuramente Douglas MacGregor è un ufficiale statunitense che ha fatto una carriera importante, è stato anche consigliere del Pentagono, ha lavorato con Casa Bianca, poi ha partecipato anche a numerosi approfondimenti televisivi spiegando come funziona la macchina militare, condividendo con pubblico statunitense di analisi sia geopolitici che geostrategici, sia di strategia militare, per cui è una persona che è abituata a mettere insieme delle informazioni, fare proprie conclusioni, ha un proprio punto di vista che condivide con un certo coraggio e sicuramente il suo punto di vista è molto interessante. Per questo motivo io spesso leggo e ascolto ciò che dice Douglas MacGregor, con alcune cose sono d'accordo, con altre cose può non essere d'accordo, in grande linea io rispetto molto questa persona, come rispetto tutti quelli che condividono la propria libera opinione basandosi sulle proprie esperienze e sulla raccolta di informazioni che fanno e sull'analisi di informazioni che fanno. Recentemente Douglas MacGregor ha condiviso una serie di opinioni che sono stati abbastanza scandalosi e in effetti il pubblico statunitense con certo entusiasmo ha cominciato a divulgare questi video, spezzoni di questi video, si trovano alcuni su TikTok, gli altri si trovano su YouTube, si trovano tantissimi spezzoni di questa sua ultima partecipazione al programma del canale YouTube Judging Freedom, dove lui spesso è ospite e lui in pratica ha spiegato che secondo lui, secondo le sue informazioni, perché lui è in contatto con diversi militari statunitensi che attualmente trattano la questione ucraina, quindi lui conosce diverse situazioni interne e lui dice che secondo lui è abbastanza reale la possibilità che i militari ucraini già durante quest'anno, durante 2023, potranno organizzare un colpo di Stato contro Zelensky e faranno arrivare al potere un diretto rappresentante dell'esercito ucraino che molto probabile potrebbe essere il capo dell'esercito Zaluzhny. Lui ha parlato del fatto che ultimamente sempre più militari ucraini diffondono sia sui social, sia attraverso i loro rapporti all'interno ovviamente del sistema militare ucraino, però voi sapete che i rapporti dei militari ucraini sono studiati e profondamente analizzati dagli Stati Uniti d'America, perché gli americani sono all'interno della macchina militare ucraina, i specialisti militari impostano il funzionamento di questa macchina, per cui loro hanno tutte le informazioni, hanno accesso a tutti i tipi di relazioni che ci sono all'interno dell'esercito ucraino, e quindi loro segnalano che ultimamente molti militari ucraini dimostrano il proprio dissenso alle scelte che sta facendo l'apparato governativo ucraino rappresentato dal presidente Zelensky. Ci sono molte minacce direttamente nei confronti di Zelensky, cioè militari ucraini diffondono dei video dove promettono di arrivare a Kiev e impiccare Zelensky prima che lo fanno i russi, molti militari ucraini incolpano Zelensky di aver trasformato Bakhmut in una grande tritta carne dove i migliori militari ucraini hanno perso la vita. Insomma, ci sono anche tantissimi militari ucraini che non sono contenti da diversi personaggi del proprio comando, che loro reputano corrotti, che loro reputano lontani dagli ideali del patriottismo ucraino, li offendono nei loro video e li incolpano di essere lì sulle loro posizioni solo per sfruttare dal punto di vista economico le proprie posizioni autolocate, ma assolutamente di non fare niente per aiutare all'Ucraina di liberarsi dall'invasione russa. E quindi Douglas MacGregor in questa sua puntata ha parlato del fatto che secondo i suoi fonti, secondo gli specialisti americani che monitorano la situazione dell'esercito ucraino, la corruzione del governo ucraino è arrivata alle dimensioni impressionanti. Lui dice che milioni dei soldi incontanti finiscono nelle posti più inimmaginabili, li trafugano da tutte le parti, coinvolgono le amanti, coinvolgono le famiglie, coinvolgono gli amici per esportare i soldi nei paesi occidentali, comprare lì le case, trasformare i soldi in qualche capitalizzazione legata al sistema occidentale, e mentre in Ucraina sparisce tantissimo materiale militare che viene fornito all'esercito ucraino per combattere l'invasione russa. E quindi Douglas MacGregor dice che noi americani facciamo dei sacrifici, i nostri agliati europei fanno sacrifici per fornire all'Ucraina i sistemi d'arma necessari per affrontare la guerra e una parte consistente di questi sistemi che noi li forniamo vengono venduti sul mercato nero, i soldi vengono trafugati in occidente, vengono capitalizzati nei paesi occidentali, come ad esempio famose ville di lusso che persino nelle sue indagini nella New York Times ha pubblicato le ville di lusso che sono stati acquistati da vari rappresentanti, da vari oligarchi, da vari rappresentanti di Stato ucraino in Svizzera o in altri paesi. Douglas MacGregor spiega che i militari ucraini, soldati semplici, gli ufficiali di medio livello, loro capiscono queste cose, loro vedono queste cose, perché loro vedono i video delle amanti, dei loro comandanti che girano per l'Europa, spendono grandi quantità dei soldi, vanno nei luoghi di lusso dove festeggiano mentre loro sono costretti a crepare nel fango combattendo contro l'invasore russo e ovviamente a loro questa cosa non piace, loro non sono contenti di vedere questo distacco nella loro nazione che secondo la propaganda tutta unita insieme combatte contro i russi, mentre nella realtà una parte, cioè più poveri, poveracci combattono sulla prima linea, mentre i furbacchioni, speculatori, fanno sulla loro pelle un sacco di soldi e poi capitalizzano questi soldi in occidente. E quindi Douglas ha detto che probabilmente Ucraina con questo andamento di situazione, se non ci sarà un cambio radicale nella soppressione di questo dilagare di corruzione, l'Ucraina può addirittura smettere di esistere come il governo attuale già quest'anno, già durante il 2023. Lui dice che Zelensky a questo punto probabilmente scapperà in un terzo paese, lui dice che Stati Uniti d'America non li daranno ospitalità, lui dice che probabilmente l'unico paese che lo ospiterà sarà l'Israele, mentre l'Ucraina secondo lui a questo punto sarà divisa tra Polonia e la Russia e poi rimarrà una parte centrale che probabilmente verrà controllata da un insieme di meccanismi internazionali dell'ONU, forse anche con partecipazione della Nato e di altri sistemi. Quindi Douglas MacGregor per l'ennesima volta ha dato un'analisi abbastanza scandalosa, ma molto interessante e a mio avviso molto utile per comprendere anche una parte della situazione in Ucraina della quale a noi purtroppo il nostro mainstream occidentale non racconta niente, perché ci tiene ovviamente lontano dalle questioni, tra virgolette, problematiche, spigolose, dalle questioni che possono mettere in cattiva luce quelli che sono i collaboratori, o meglio dire i sudditi del sistema della Nato e del sistema degli oligarchi anglosassoni in Ucraina. Quindi io vi invito di prestare attenzione a questa ultima intervista di Douglas MacGregor e spero che questo potrà un po' ampliare la vostra visione e il campo libero della vostra informazione. Grazie cari amici per essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, per favore mettete i vostri like oppure dislike, commentate, sempre vi invito di commentare in maniera pacata e rispettosa per chi ha le opinioni diverse dalle vostre, perché sul rispetto si basa il dibattito pubblico, che è una cosa molto preziosa, e inoltre vi invito di attivare la campanella delle notifiche, così vi arrivano gli avvertimenti e i messaggi quando io carico i miei nuovi video. Grazie, vi mando un forte abbraccio.